Domenica 25 settembre torna Cantini Aperte in Vendemmia, l'evento organizzato dal movimento turismo del vino Puglia in collaborazione con l'assessorato all'agricoltura della regione Puglia, giunto alla 18esima edizione. La vendemmia è una delle più suggestive antiche pratiche agricole per l'economia regionale, uno dei momenti più significativi da cui traggono origine i nostri vini d'eccellenza, sottolineato l'assessore alle risorse agroalimentari della regione Puglia Leonardo Di Gioia. Cantini Aperte in Vendemmia è un evento di benvenuto al vino e un ringraziamento al lavoro dei produttori, gli impianti si sono ammodernati e anche grazie ai sostegni previsti dal programma di sviluppo rurale 2014-2020 molte realtà investiranno in produzione, trasformazione e commercializzazione al fine di rendere sempre più competitive le etichette in Italia e all'estero. In Puglia turisti e wine lovers potranno come sempre scegliere fra diversi territori visitando una o più delle 15 cantine aderenti e per rendere ancora più coinvolgente l'appuntamento in alcune aziende ci sarà la possibilità di assistere alla vendemmia o di godere di alcune delle attività organizzate dalle cantine come mostre d'arte, spettacoli di musica e danza popolare. Una giornata di feste cultura del territorio da trascorrere in compagnia della famiglia o degli amici come sottolinea anche il presidente del movimento turismo del vino Puglia Sebastiano Decorato. Con Cantini Aperte in Vendemmia le aziende socie del consorzio, spiega Decorato, offrono agli enu turisti una bella opportunità per scoprire e godere non solo di belle strutture e ottime degustazioni ma anche per condividere la febbrile attività della vendemmia grazie alla quale nascono gli eccellenti vini delle nostre cantine. Due le iniziative per la 18esima edizione di Cantini Aperte in Vendemmia. La prima è Movimento Turismo del Vino per Amatrice, una raccolta fondi a favore della popolazione recentemente colpita dal tragico terremoto indetta dal Movimento Turismo del Vino in Italia a cui la Puglia parteciperà devolvendo un euro per ogni calice venduto. Inoltre in continuità con la promozione avviata in occasione di Cantini Aperte dello scorso maggio ritorna l'iniziativa Salva la Goccia che rende l'evento dedicato alla vendemmia non solo un'occasione per degustare ma anche per divulgare, formare e informare i suoi vini pugliesi. Grazie. 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 Grazie.